Un ente che comunque ha avuto un occhio particolare per quanto riguarda la sicurezza? Assolutamente sì, l'altro giorno abbiamo insediato la consulta provinciale della legalità. Il tentativo cioè di mettere in rete in un'unica cabina di regia le iniziative pur meritevoli che i singoli comuni e le singole associazioni mettono in campo. Era venuto il momento probabilmente di coordinare queste azioni in un luogo che è quello della consulta in cui le associazioni, gli enti territoriali, le forze dell'ordine, tutti gli operatori economici cioè tutti quelli coinvolti in questa battaglia, la cittadinanza attiva, siano insieme e ragionino all'unisono avendo una strategia univoca e unitaria di rilancio del territorio. proprio nella prospettiva di far crescere quelle politiche di antimafia sociale cioè di antimafia che non accanto all'azione sanzionatore e repressiva delle forze dell'ordine faccia dal basso crescere la cultura della legalità per eradicare un fenomeno che nel tessuto sociale nel tempo e negli anni sia abbastanza eradicato rispetto alla quale noi non dobbiamo avere nessun timore di dichiarare con determinazione e con coraggio guerra, guerra forte